Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Caos a Ballando con le stelle. Una concorrente snob agita gli animi, ma Sonia Bruganelli smentisce. Il celebre programma, condotto da Millie Corleucci, sta per tornare e tra i protagonisti attesi ci sarà anche Sonia Bruganelli, nota ex opinionista televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis. Negli ultimi giorni, una voce lanciata da D'Agospia ha scatenato un piccolo terremoto. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, una delle concorrenti avrebbe avuto un comportamento snob e pretese fuori dal comune, creando tensione dietro le quinte. Sebbene il sito non abbia fatto nomi, molti hanno subito pensato a Bruganelli, tanto che alcune pagine sui social, tra cui la TV, hanno apertamente suggerito che fosse proprio lei, corredando il tutto con una foto e commenti polemici. Bruganelli non ha perso tempo e ha voluto rispondere chiaramente. A questo giro non centro niente io, ha scritto sui social, respingendo le accuse. Nonostante la sua smentita, i commenti negativi non si sono fatti attendere, con molti utenti che hanno comunque continuato a definirla snob, facendo riferimento alla sua immagine pubblica. La questione ha messo in luce come, a volte, una semplice indiscrezione possa spuggire di mano, soprattutto quando si tratta di volti noti e chiacchierati.